Partiamo da una certezza che San Salvo si conferma un comune rosa. Si conferma un comune rosa ma soprattutto un comune di centro-destra, cosa importantissima per la nostra provincia e per la nostra regione. Io credo che il buon lavoro fatto nei dieci anni di amministrazione alla fine abbiano portato il risultato. Quindi auguro a Emanuela De Nicolis, qua siamo sotto il comune, quindi fra poco entrerà ufficialmente nel palazzo. Le auguro un buon lavoro e sicuramente avremo modo di collaborare insieme. È stato comunque un ballottaggio poi alla fine tirato fino alla fine. Esatto, ma anche a livello nazionale. È vero che hanno recuperato un pochettino nel centro-sinistra, però se andiamo a vedere il dato totale, cioè dalle due settimane precedenti adesso, in realtà su 22 capoluoghi 12 sono andati al centro-destra. Quindi comunque si riconferma questo trend che c'è verso il centro-destra, dove amministra, amministra bene e viene riconfermato. E soprattutto dove si lavora insieme e uniti. A Verona abbiamo perso perché non c'è stata l'unità. A proposito di questo, quanto è difficile vedere anche per voi un centro-destra che poi in alcune città va separato e poi non raggiunge il risultato? Eh, purtroppo, almeno per me, ma credo per tutti quelli che insomma fanno politica con il cuore, è appunto un colpo, un duro colpo, perché io credo che l'unità, l'unità di intenti, la serietà, il lavorare insieme, sempre e comunque in squadra, porti sia in politica ma anche in tutte le altre situazioni lavorative. Quindi perché separarsi quando la comunità di intenti c'è e ci dovrebbe essere? E consigliere regionale, allora proviamo a proiettarci al prossimo futuro, un messaggio anche al governo di centro-destra regionale? Ma assolutamente sì, l'abbiamo dimostrato dalla Val d'Aosta alla Sicilia, il centro-destra unito vince sempre, su tutto e su tutti, per cui non vedo perché dovremmo andare frammentati. Per l'Abruzzo cosa significano queste due riconferme, soprattutto anche quella di San Salvo? Ma significa che, anche proiettato appunto per il futuro, per le regionali, più città abbiamo vicine, vicino al nostro territorio, e più c'è la possibilità, insomma, di essere riconfermati e per una volta, dopo tantissimi anni, magari invertire il trend che in regione fa sì che cinque anni vinca il centro-destra e cinque anni vinca il centro-sinistra. Si sono sempre alternate, però si sta governando bene. Certo c'è qualche piccolo assestamento, qualche piccola battuta d'arresto, però credo che sia normale e fisiologico in qualsiasi amministrazione.